Buongiorno a tutti, qualche giorno fa abbiamo ricordato l'ottantesimo anniversario dell'attacco tedesco alla Jugoslavia, attacco che ha comportato dopo pochi giorni, l'11 di aprile del 1941, anche l'intervento italiano, intervento che ha contribuito in minima parte, ovviamente il destino della Jugoslavia era già segnato, ma che andava a chiudere un periodo lungo più di 20 anni in cui le relazioni tra Roma e Belgrado erano state particolarmente tese, soprattutto per tutta una serie di rivendicazioni territoriali che avevano profondamente condizionato le relazioni, relazioni che erano state solo parzialmente mitigate dai vari accordi su fiume, sulle varie realtà di confine, ma che erano sempre abbastanza ballerine anche in funzione delle malcelate pretesi italiane sull'Albania. E questo argomento ci porta a fare un passo indietro di due anni e nell'aprile del 1939, quando l'Italia gettò la maschera nei confronti di Tirana e quello che era stato un lungo progetto di protettorato, di collaborazione politico-militare che aveva avuto una sorta di lunga parentesi preparatoria verso quello che sarebbe stata l'annessione vera e propria, si schiuse nei primi giorni di aprile del 1939 e che si andò a realizzare tra il 7 e l'8 aprile. L'impresa fu sostanzialmente fulminea, fu un colpo di mano, l'Albania crollò sostanzialmente implose perché non aveva la capacità di reggere politicamente e militarmente, oltre al fatto appunto che l'Italia aveva ampiamente preparato questo colpo di mano, ma nonostante tutto ciò la brevissima campagna militare fu tutto tranne che un'opera di efficienza. L'Italia pagava l'incapacità di riuscire a portare avanti un'operazione oltre mare, benché il braccio di mare dell'Adriatico fosse veramente breve nel canale di Otranto e questo avrebbe dovuto portare l'Italia a delle riflessioni di politica militare molto più accorte quando appunto nell'ottobre del 1940 avrebbe attaccato la Grecia e tutto ciò che avrebbe comportato nella Seconda Guerra Mondiale. Ma per descrivere queste ore particolarmente agitate vi vorrei leggere alcuni passi che in qualche modo ci vanno a specificare, a chiarire, a illustrare delle ore che poi saranno coronate appunto dal successo, l'obiettivo verrà realizzato, la dominazione e l'occupazione dell'Albania sarà realizzata in poche ore ma non senza un grossissimo amare in bocca per una non del tutto piena ed efficace realizzazione soprattutto nell'aspetto organizzativo e militare. Io partirei con il libro di Silvio Bertoldi, Anni in grigio verde, Vita degli italiani in divisa nel 1940-43 che ci fa uno spaccato interessante, queste sono parole di Bertoldi, ma che cita Filippo Anfuso che era il braccio destro di Galeazzo Ciano e che ci offre quindi secondo me un primo approccio sicuramente interessante. Questo è Bertoldi che parla, lo sbarco si era svolto in una confusione indescrivibile con una preparazione dilettantesca tra urla e sconquassi, gente finita in acqua con rischio di annegare, navi impossibilità ad attraccare perché non era stata calcolata la profondità dei fondali, i soldati trasportati a terra solo grazie a barconi richiesti ai pescatori locali. E poi cita esplicitamente Filippo Anfuso, allora braccio destro di Ciano, il deus ex machina dell'occupazione, questo tra virgolette, se gli albanesi avessero avuto anche solo una brigata di pompieri bene armati avrebbero potuto ributtarci nell'Adriatico. Bene, questo è un giudizio piuttosto tranchant che Bertoldi trae dal giudizio di Anfuso, ma andiamo a vedere invece quello che ci dice Ciano nel suo diario. Ciano è un suo cavallo di battaglia, l'occupazione dell'Albania, l'Albania che sarà una sorta di suo feudo personale con tutta una serie di declinazioni particolari che sappiamo che dedicherà anche alla moglie una località, Porto Edda, quindi era un obiettivo a lui profondamente caro che si collocava anche come intermezzo tra, come risposta all'occupazione della Bohemia da parte della Germania dopo il congresso di Monaco del settembre dell'anno precedente. Anche in quel caso Hitler getta la maschera, si rimangia qualsiasi garanzia verso la Cecoslovacchia e sostanzialmente decide un completo smembramento della Cecoslovacchia annettendosi la Bohemia e la Moravia con tutto ciò che poi sappiamo che ne conseguirà. E Ciano dà una sorta di risposta a questo attacco, a questa occupazione della Bohemia e della Moravia e si colloca all'interno appunto cronologico perché nel mese di maggio ci sarà il patto d'acciaio. Quindi in qualche modo è l'epicentro di un lungo periodo in cui le relazioni tra Roma e Berlino hanno sicuramente un grosso apporto. Cosa dice Ciano il 7 aprile? Facendo tutta una disquisizione sulle opportunità, sulle possibilità che questo attacco, l'ultimatum prima e l'attacco poi militare all'Albania, dice esplicitamente, riferisco al Duce, ne è molto contento quindi su come stanno andando le cose, anche perché la reazione internazionale è nulla o quasi, quindi sostanzialmente l'Italia riesce ancora una volta a mettere l'opinione pubblica internazionale di fronte al fatto compiuto e appunto gioca anche sotto il pretesto di imitare in tutto e per tutto la Germania. La Germania non ha avuto grandi recriminazioni nonostante le garanzie che erano state offerte dopo l'occupazione dei Sudeti, quindi in qualche modo, visto che c'è un'impunità nei confronti di Berlino, perché non proseguire anche noi? Il prememoria lasciatomi da aperta l'ambasciatore inglese nel corso di una visita molto cordiale potrebbe essere stato redatto dai nostri uffici per la clemenza, per la propensione all'accettazione del fatto compiuto. Nel pomeriggio gli umori nostri mutano. Guzzone, il generale Guzzone, Alfredo Guzzone, comandante del corpo di spedizione, ha ricevuto i parlamentari di Zog, il re albanese, e invece di proseguire l'azione come il Duce aveva ordinato, ha sospeso tutto per sei ore. Il Duce è furioso, questo ritardo può avere conseguenze gravissime. Noi abbiamo bisogno di arrivare alla capitale per fare la nostra manovra politica. Ecco quindi la manovra politica come elemento essenziale per mettere ancora di più, per mettere la ciliegina sulla torta, di un'operazione prettamente politica-diplomatica. Tramite Valle, il sottosegretario dell'Aeronautica, nonché capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il Duce ordina di riprendere la marcia. Ma intanto è una giornata perduta e ciò permette alla solita schifosa stampa francese di dire che gli italiani sono stati battuti dagli albanesi. Manchiamo del tutto di notizie circa la marcia delle colonne. Il solo che telegrafa Iacomoni ha serragliato con gli altri italiani in legazione. Le notizie che manda sono sempre più preoccupanti per la sua sorte. I banditi stanno svaliggiando i palazzi reali e minacciano la legazione. Il Duce, nervosissimo, telefona continuamente durante la notte e vuole notizie che io non posso dare perché non ho. Solo nelle prime ore del mattino Iacomoni segnala che la situazione in città è migliorata, ma non sappiamo niente dell'avanzata di Guzzoni. Questo è indicativo di come il ministro degli esteri, il capo del governo e tutta l'entourage di Roma non abbia nessuna notizia di come effettivamente stiano andando le operazioni militari. 8 aprile. Da Ieta, che è il capo della segreteria e poi capo di gabinetto di Ciano, telefona alle 8 di mattina che Iacomoni dà a Terrabile il campo di Tirana. Decido di partire subito e ne informa il Duce che approva. Arriva a Tirana alle 10.30, dopo aver sorvolato la colonna autocarrata che marcia sulla capitale albanese. I primi elementi sono ormai fuori alle porte della città. Sul campo trovo valle, Guzzoni, Iacomoni e molti reparti di pontieri autotrasportati. Non nascondo che una violenta emozione sia impadronita di me e di tutti. Conferisco con Guzzoni che mi spiega le cause del ritardo, ecco perché ha atteso queste sei ore, difficoltà negli sbarchi, carburanti non adatti ed infine mancanza di collegamenti perché i radiotelegrafisti richiamati non sono stati nessuno in grado di assicurare il servizio. La situazione ormai è ottima, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci dice sostanzialmente che è stato comunque un successo, ma ci sono stati gravissimi problemi che onestamente io non sottoluderei, visto appunto le pretese successive di sforzo militare. Cioè richiamiamole. Allora, difficoltà negli sbarchi, carburanti non adatti e infine mancanza di collegamenti perché i radiotelegrafisti richiamati non sono stati nessuno in grado di assicurare il servizio. È una cosa gravissima. Cioè se consigliamo che i tedeschi a partire dal mese di settembre avrebbero sbaragliato la Polonia e tutto ciò che avrebbero sbaragliato nei mesi a seguire di fronte a una complementarietà, una organizzazione nella logistica, nei servizi, nei trasporti, nelle telecomunicazioni e noi ancora abbiamo i problemi perché i radiotelegrafisti che abbiamo chiamato non sono in grado di utilizzare le radio che avevano. Cioè è veramente una cosa drammatica. Ma se questo non ci sembra ancora sufficiente per evidenziare delle grandissime lagune che in quell'aprile del 1939 esistevano a livello organizzativo nella filiera dei comandi militari italiani, possiamo leggere un altro grande grillo parlante, ossia Bottai, che nel suo diario non è meno mordace, anzi lo è molto di più visto che non ha necessità di indorare la pillola a nessuno. Allora qui ci dice il 13 aprile del 1939, Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini ci ragguaglia sull'operazione albanese, tra virgolette. Il primo giorno in due ore avremmo potuto essere a Tirana. Vi sono stati ritardi nello sbarco. Come al solito non si era previsto tutto. Le navi troppo cariche non hanno potuto attraccare alle banchine. Si è dovuto fare lo scarico del materiale succhiatte. Quindi doppio lavoro. Tutto ha funzionato. Per resto bene. Mene i collegamenti, poiché i richiamati non conoscevano le nuove radio. Poi si sono perdute parecchie ore per ricevere e ascoltare i pleni potenziali di Rezoku, eccetera eccetera, nonostante avessi dato ordine che si proseguisse lo stesso. E poi continua la evoluzione. Allora, sostanzialmente qual è la recriminazione, le analisi che vengono svolte e vengono sostanzialmente ricorrenti, sono ricorrenti in queste varie testimonianze? L'incapacità organizzativa, l'incapacità di gestione delle varie problematiche sotto l'aspetto appunto di carico, scarico e comunicazione che era essenziale in un contesto come l'Albania, che sarebbe stato essenziale in un contesto come la Grecia un anno e mezzo dopo, come sarebbe stato essenziale in molti altri contesti, come appunto quello della Libia, visto che c'era anche sempre un problema di carico e scarico. Sicuramente la Libia aveva una sua capacità ricettiva, visto che l'Italia ci aveva investito già da diversi decenni. Però sostanzialmente il problema è sempre lo stesso, quello di organizzare una battaglia e non tanto il combattimento in senso stretto, perché come abbiamo detto in vari altri video, il sud italiano non ha mai avuto grosse difficoltà a combattere, l'importante era metterli in condizioni di poter combattere, riuscire ad avere in maniera costante alimentazione, gestione, rifornimenti, attrezzature, trasporti adeguati per avere appunto la capacità di riuscire a interloquire, a combattere contro l'avversario. Quindi questo è interessante di come vi sia una consapevolezza, anche se rassegnata nell'aprile del 1939, ma sarà una consapevolezza rassegnata che proseguirà per tutti gli anni successivi fino appunto alla capitolazione nell'estate del 1943. Quindi è un elemento di grave accusa, di grave aggravante nei confronti della struttura politico-militare che sapendo come vi erano queste deficienze acclarate, macroscopiche, veramente costanti in una gestione che appunto nel caso dell'Albania, che si è comunque risolto in maniera abbastanza facile perché l'Albania non riponeva, come diceva Anfuso, neanche di una brigata di pompieri ben armata che ci avrebbero ributtato in mare, ma se poi lo scontro viene fatto contro paesi un po' più organizzati come può essere la Grecia o addirittura come la Gran Bretagna, capiamo benissimo come gli effetti devastanti potessero essere assolutamente nefasti. Detto questo, come al so, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!